Abbiamo prodotto una legge che completa un intervento necessario, che sono le vasche di espansione del fiume Pescara. I fatti di Genova sono nella memoria di tutti. Quando un fiume arriva a carico della sua forza, fa danni, feriti e in alcuni casi anche morti. Ora l'Abruzzo ha questa possibilità sull'asta del fiume Pescara di realizzare queste cinque importanti vasche che faranno esondare il fiume in maniera controllata evitando che in caso di piena Pescara, l'ultima l'abbiamo avuta drammatica, tra il 2 e il 3 dicembre del 2013, il fiume arrivi con una forza inaudita e appunto crei danni a persone e cose. Ora però gli errori del passato non vanno ripetuti, anche perché spendiamo tanti soldi, che sono soldi dei cittadini e che devono portare un beneficio completo. Allora abbiamo proposto una semplicissima modifica ad una legge esistente che impedirà di cementificare le albi fluviali e le sponde dei fiumi. Se questo lo faremo vorrà dire che l'opera sarà effettivamente utile, che i danni del passato ingentissimi saranno contenuti e che avremo messo in sicurezza la vita e le cose di tanti cittadini della provincia di Pescara.